Ora si registrerà la conferenza. Signori, buonasera a tutti. Porto intanto i saluti a tutti i presenti, al sindaco, al sessore, ai consiglieri, anche al pubblico a casa. Consentitemi anche di salutare e ringraziare il personale che tutt'oggi si è adoperato per ripristinare un vetro che si era rotto. Tutto è stato fatto nei tempi per consentirci di svolgere questo consiglio comunale. Passo subito la parola al segretario per l'appello. Grazie. Di Stefano, Bonato, Cagliani, Calini, Coccetti, Cupido, Foggetta, Garotti, Gatti, Ghezzi, Hamdi, Maderloni, Milazzo, presente, Molteni, Montrasio, Nigro, Pagani, Pastorino, Pini, presente, Pogliaghi, Ricupero, Romano, Turolla, Valsecchi, Vincelli. E' da remoto, Vincelli. Vincelli riesce a dare la presenza? Grazie. Poi gli assessori a Iosa, Fiorino, La Miranda, Lanzoni, Misco, Paterna, Pizzocchera. 24 consiglieri presenti. Grazie, il numero legale è stato raggiunto. Nominiamo tre scultatori. Ricupero, grazie. Molteni. Pagani, grazie. Ci alziamo in piedi per l'inonazionale. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Buonasera a tutti. Grazie 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 a tutti. Sono sedici. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. Perché? Grazie a tutti. 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 e mi piace. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. controlla, controlla. generiamo di scegliere la soluzione più semplice ma la domanda che mi faccio è la soluzione più giusta grazie grazie a lei mi chiedeva da remoto la parola consigliere vincelli conferma confermo grazie presidente prego la parola quasi siamo a buonanotte altro che buonasera io intanto andrei a chiedere a milano a sala quei 3.000 bambini che non avranno la possibilità di andare all'asilo 2023 2024 perché milano non ha in programma nessun asilo con il pnrr mentre noi qui a sesto san giovanni abbiamo diverse opportunità che ha creato questa amministrazione così questo è un cappello come inizio a me dispiace stasera di aver sentito insinuazioni per sentito dire io eviterei anche se nel dna di qualcuno in particolare di chi è solo provocatore seconda cosa qui stasera è stato dato dell'incompetenza alle 54 educatrici di fondazione generiamo qui sta la vergogna non in altri casi qui aver sentito che sono incompetenti è una vera vergogna da parte di chi l'ha detto poi stasera ho sentito che ci sono in aula anche sindacalisti e io mi chiedo visto che è in programma da parte di tutta la sinistra famosa legge di proposta di legge dei 9 euro ma i dieci anni precedenti che cosa ha fatto la sinistra adesso sta tirando fuori questo discorso quando prima forse c'era necessario essendo loro alla guida di questo di questo di questa italia continuo a dire e ascoltare ascoltare che le fondazioni cioè le educatrici di fondazioni sono sottopagate quando abbia hanno un contratto anni in sé il quale un contratto collettivo nazionale lavorativo siglato da flc cgl allora mi domando ma se non avete letto la relazione al momento della commissione e vedo che anche questa sera non l'avete rieletto ma quando inizierete a leggerla la relazione qui dentro è un documento importante e dovuto benissimo però non non vedo effettivamente gente che ha letto il contenuto di questa relazione molto importante se non anche in commissione quando ho indicato proprio che c'erano 54 educatori di cui 38 full time e 16 part time gli educatori il dottor ruta alla mia domanda se gli educatori fatta apposta perché continuavo a sentire di tutto di più in commissione anche questa sera ho chiesto se ero a tempo determinato o indeterminato risultato a tempo indeterminato ora che c'entra il resto dei eh delle educatrici all'interno dell'organico del consiglio comunale nulla non c'entra assolutamente nulla qui c'è anche il contratto di fondazione allora vorrei anche dire che questo contratto è un apprendistato solo di tipo professionalizzante alè sono atto gli identiti qua noi la sentiamo la sentiamo se le vincenze non mi vedete ah ok perfetto hai dato il tipo la sentiamo e la vediamo ok benissimo quindi per consentire lo sviluppo concreto di opportunità occupazionali quindi si parte effettivamente da questa da questo inizio da questo contratto sì è più basso ma è un contratto nazionale dove 54 educatrici vengono effettivamente in fondazione generiamo non sono andate in altre in altre situazioni sono qua poi vogliono migliorare bene perfetto ma mi sembra giusto ma questo è insito nella nostra nella nostra umanità il fatto di migliorare la nostra posizione la nostra professionalità e quindi non capisco e non comprendo queste continue insinuazioni e determinazioni di competenza di persone che sono lì a soddisfare delle esigenze dei nostri figli dei genitori sestesi questo è importante perché non mi sembra di aver sentito da parte dei genitori che si sono lamentati a me non sembra e poi dal punto di vista delle gli asili in precedenza e qui mi conforta il fatto che l'amico non che collega con gli anni abbia ripetuto quanto è difficile oggi oggi avere a che fare con con i dipendenti e con tutta la loro formazione di anche enunciato cosa abbiamo trovato e sono stato io il primo a trovare delle incombenze tra quello che veramente si incassava e quello che risultava i fondi di crudi crediti di dubbia esigibilità e da lì abbiamo fatto una redazione e da lì abbiamo capito tante cose su quello che erano gli asili buoni sì ma nessuno ha mai detto che fossero gloriosi unica cosa una cosa chiaramente esistente chiaramente su questa terra buoni perché comunque era così che doveva che dovevano chiaramente andare vorrei un attimo finire con quello che è il collegio dei revisori dei conti che vabbè è vero che vi è arrivato vi è arrivato stamattina però in realtà il verbale è numero 23 del 22 luglio 2023 e da una premessa da parte loro del collegio dei revisori dei conti dove esaminate in particolare le proposte di deliberazione dove la documentazione che di essa forma parte integrante sostanziale è stata chiaramente vista cioè dagli dai servizi educativi da che propone fondazione generiamo dalle relazioni relativa a una sezione del nido croce all'accordo di servizio la bozza di statuto cioè prende atto quindi esaminando la documentazione si prende atto che la soluzione comporta una considerazione risparmio di spesa per il comune non mi sembra non mi sembra di leggere che il servizio è minore perché i costi sono consideranti di risparmio non mi sembra di leggere questo qualcuno magari si è inventato ancora qui questa sera e da cosa importante l'approvazione che ritengo giusto come come articolo 14 del decreto legislativo 201 2022 di fare proprio una relazione a quello che è importante per noi riteniamo giusto di aver seguito questo obiettivo il fatto di fondazione generiamo perché abbiamo ritenuto che ci potesse essere una strada diversa dall'esternalizzare quello che erano i nostri asili e questo è secondo me una libera scelta che noi abbiamo fatto vi ricordo che aprile 2019 è nato fondazione generiamo qualcuno si dimentica qualcuno si dimentica che c'è stata una pandemia come al solito come al solito e noi però oggi siamo qua e andiamo ancora a prendere altri due asili arriveremo al nostro obiettivo dopo di che tireremo una 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 seconda verifica perché la prima verifica l'abbiamo già comunque tirata qui stasera e riteniamo che questo sia un obiettivo che noi possiamo portare avanti per sesto per i piccoli per i piccoli settesi e per i genitori grazie posso chiedere però per per giustezza siccome il consigliere vincelli ha detto che qualcuno qui ha dato delle incompetenti alle educatrici io però chiedo siccome ognuno si deve prendere la responsabilità di quello che dice di sapere chi lo ha detto dal consigliere vincelli contanto anche di applauso del consigliere bonato magari si vuole rispondere lui così ha vincelli ha fatto un ragionamento senza citare nomi nello specifico penso interpretando delle affermazioni perché penso sia obbligato a dire il nome e il cognome però quindi altre interventi in aula di ente posso però sarò davvero breve allora vorrei fare soltanto alcune considerazioni loro innanzitutto è inaccettabile che un consigliere al di là di quello che si ha appena detto vada a riferire che qualcuno di noi abbia definito incompetenti le educatrici dei di di sesso san giovanni soprattutto quelle della fondazione generiamo perché nessuno di noi lo ha detto e neanche è in stato può essere interpretato quello che noi abbiamo detto i miei colleghi hanno fatto riferimento a ad un trattamento retributivo che non consente a queste educatrici di avere una vita dignitosa per se stesse e per la propria famiglia perché questo è quello che recita la nostra costituzione signori quindi non siamo noi che lo pretendiamo o lo abbiamo avuto la fantasia di chiederlo stasera io credo che ci voglia un po di coraggio bisogna ammettere le proprie scelte politiche perché qua è evidente che oltre a una scelta di risparmio e io trovo anche qui vergognoso che si possa parlare solamente di risparmio quando si parla di un servizio essenziale come l'educazione quindi si vada a privilegiare soltanto questo aspetto perché come più volte ribadito nella relazione non c'è stato alcun cenno a quali sono stati i miglioramenti qualitativi è stato chiesto in commissione non sono arrivate le risposte nessuno è stato in grado dei presenti di spiegare quale sta qual è stato il miglioramento anche l'adeguamento perché la relazione conclude in maniera inveritiera che fondazione è funzionale all'esigenza del contenimento della spesa e questo l'abbiamo capito perché tanto noi siamo un spa contenimento della spesa pur garantendo gli standard di qualità preesistenti ma da dove si desume non si sa perché è stato chiesto uno dei consiglieri di maggioranza è stato in grado stasera oltre che a citare numeri e parlare di risparmio parlare di business e parlare di un'evoluzione verso che cosa non si sa è stato in grado di spiegare in maniera concreta qual è stato questo questo miglioramento oppure almeno la garanzia di aver mantenuto lo standard qualitativo precedente quindi io credo che ci voglia il coraggio di ammettere il perché si fanno determinate scelte perché io in questa scelta oltre che a un impoverimento di una classe di lavoratori che sono gli educatori che comunque sono sottoposti ad un'attività usurante e molto impegnativa e non sono equamente retribuiti non viene preso neanche in considerazione il danno che si fa alle famiglie perché i lavoratori hanno anche manifestato proprio un anno fa sotto questo comune per appunto recriminare le pessime condizioni retributive alle quali sono sono sottoposti e le famiglie si lamentano perché le famiglie non hanno garanzia rispetto al tempo pieno quindi come si fa dall'altra parte a dire che non è vero ma voi dove eravate scusate noi eravamo qui noi i genitori che si lamentano li ascoltiamo persone che hanno chiesto il tempo pieno gli è stato proposto il part time ci sono io non capisco come come si possa negare l'evidenza l'evidenza di fronte a manifestazioni dei sindacati di fronte alle lamentere delle famiglie quindi abbiate il coraggio di ammettere che questa scelta come tutte le altre che questa amministrazione sta prendendo va verso un'unica direzione c'è quella di privilegiare sempre lo stesso standard sociale quindi le persone che non si possono permettere di accedere al nido perché già le graduatorie comunque sono molto impegnative dato anche il sovrappolamento le condizioni economiche non tutti possono contare sulla presenza dei nonni e sempre volta ad espellere il più debole quello che non ce la fa quello che si che possono pagarsi il nido privato allora chi se ne frega degli altri scusate il termine ma questa è la verità queste sono scelte politiche che provengono da questa amministrazione in tutti i servizi essenziali il più debole è sempre fuori viene sempre escluso le lamentele non ci sono sulla scuola le lamentele non ci sono sulle case le lamentele sono tutte inventate dalla sinistra sinistra che tra l'altro non fa altro che cercare di difendere i diritti delle famiglie dei lavoratori io vorrei sapere invece quali diritti difende questa amministrazione e questa destra grazie grazie a lei altri venti in aula prego consigliere molteni dopo passiamo al consigliere bonato prego grazie presidente non sarà magari un intervento molto sono tutti dei flash allora mi si dice che nessuno ha detto ha messo in discussione la qualità del servizio erogato da la fondazione generiamo però se io mi sento dire e no il cittadino ha diritto ad avere un servizio di qualità ha ha diritto ad avere delle risposte ha diritto di avere tutte queste cose che non ha in questo momento da generiamo mi viene matematico conseguenziale pensare che allora non è ritenuto un servizio di qualità quanto invece è stato detto adesso che no noi non mettiamo in discussione ma se prima mi dici che il cittadino ha diritto ad avere tutto questo e non ce l'ha non è un gioco di parole o è uno o è l'altro sembra abbastanza caro nonostante l'ora nonostante magari la mia capacità oratoria limitata se è finito di dire che non ha tutte queste cose poi dice no io non ho detto che così va bene e una la mettiamo via poi no questo è quello che ho capito io è avete è stato detto che abbiamo continuato a parlare di risparmio io non ho sentito negli interventi poi che ci sia nella relazione che sia ma non mi sembra che tutti gli interventi siano stati impergnati sul risparmio economico e basta sicuramente la una delle peculiarità peculiarità delle fondazioni è proprio quello di avere un'agilità nella gestione del lavoro e delle cose magari maggiore rispetto a quello di una macchina pubblica io lavoro nel pubblico per cui la conosco bene la la macchina e tutti gli aspetti in questo senso essendo anche il coordinatore del mio servizio dove coordino 26 persone per cui insomma qualcosina capisco sicuramente le fondazioni in questo senso sono state sono scelte che sono state fatte anche dalla sanità ai tempi che furono perché il policlinico è una fondazione il trivulso è una fondazione poi dopo che sia andato come andato come stia andando questo è un altro paio di maniche ma non è di adesso eccesso questo per non dare una connotazione politica e per cui quello potrebbe essere già in parte una risposta si va sul discorso degli stipendi sottopagati eccetera eccetera che è stata fatta sulla perché è stato detto è stato fatto sulla pelle dei lavoratori questa cosa e io vi invito anche però adesso sì probabilmente un educatore comunale avrà uno stipendio maggiore è sicuramente così probabilmente da quanto viene riferito ma non è che provate a sentire un po' in giro purtroppo io dico purtroppo quali sono gli stipendi che vengono proposti a tutti a tutti i livelli io ho tre figli e potrei cominciare a farvi l'elenco di quanto con la maggiore che prende 1.030 euro al mese piccolo particolare non nel settore educativo d'accordo per cui ha meno responsabilità in quello alimentare vabbè poi ultima cosa tanto al limite noi non siamo un SPA al limite siamo un SRL che forse è meglio ma questa era una battutina così sicuramente non è vero quando di secondo me quando si viene a dire che non ha prodotto niente che ci sono le liste le liste attese ci sono indubbiamente ma per quello che mi è stato dato a capire l'offerta educativa non parlo in termini qualitativi perché sennò poi qualcuno in termini numerici è stata mantenuta e anche aumentata per cui un risultato in tal senso c'è stato c'è io ritengo che ci sia anche in termini che l'aspetto anche scusate anche l'aspetto educativo sia stato conservato il comune e chi per esso esercita grazie a dio ancora un controllo in tal senso se però ci sono al di là delle rimostranze dei lavoratori per lo stipendio se ci sono dei genitori che pensano che affermano non c'è una continuità perché il l'educatore l'educatrice probabilmente parteciperà al concorso a milano eccetera eccetera per cui non mi garantite che resterà qui dieci anni sono esempi però ci sono veramente dei riferimenti precisi sulla scarsa qualità del servizio erogato non so io non l'ho avuto questo sentore per cui poi dopo possiamo vabbè siamo qui a far politica scusate siamo qui a far politica e ognuno la fa come meglio crede io cerco di fare anche qualcosa di che si faccio politica in una maniera diversa forse sbaglio limitante però grazie a dio non ho aspirazioni di andare oltre di qua scusate se stato un po magari frazionato vi ringrazio ho finito grazie bene parola consigliere bonato grazie presidente buonasera buonasera a tutti ecco loro che ci ascoltano almeno quelli che sono sopravvissuti vorrei chiedere dopo dei tempi anche se non sono certo che magari li vado utilizzare allora visto gli interventi che sono stati fatti in aula e anche in commissione perché vorrei mettere insieme mi preme ripercorrere la strada che abbiamo fatto per arrivare all'attuale struttura di gestione dei nidi non è un mistero è stato già detto nel 2017 i nidi perdessero fiumi di denaro ogni anno e che una soluzione dovesse essere individuata per poter garantire la prosecuzione di questo servizio di eccellenza salvaguardando sia l'utenza sia i cittadini che le casse comunali che non sono una cosa che dobbiamo sempre prendere per seconda anche solo il parlarne allora scatenò una protesta che portò l'opposizione cittadina a organizzare una manifestazione per le strade della città condite da tanti slogan uno dei quali mi colpì in quanto fu utilizzato come messaggero un bambino un cartello in cui vi era scritto più buche meno tagli buche meno tagli bambino allora allora bambino utilizzato scusatemi da chi faceva parte dell'allora amministrazione sconfitta le elezioni e che non poteva non sapere che nel cassetto del sindaco vi era una proposta di delibera scritta due mesi prima delle elezioni per chiedere l'adesione al consorzio ipis per la gestione dei nidi comunali quella sì sarebbe stata esternalizzazione per non parlare della gestione di piccole e grandi che era da pannaggio di un ristretto gruppo di cittadini solo cento che contribuivano ai costi in maniera risibile con l'ugimiranza l'amministrazione guardò a ciò che in italia avevano fatto altri comuni e in particolare quelli romagnoli dove giunti di sinistra più capaci di altre avevano creato il sistema delle fondazioni di capitale pubblico e indirizzo privato per la gestione dei nidi garantendo in questo modo il controllo pubblico totale sulla gestione dei nidi quindi perché non prendere esempio da queste amministrazioni virtuose e così con gradualità la nostra fondazione inizia il suo percorso che a breve porterà la gestione di quattro nidi su sette piccoli e grandi e quelli che sorgiranno nelle nuove aree falc fermo restando che questa è una delibera tecnica e quindi non sono in discussione la qualità dei servizi ma la loro organizzazione colgo comunque l'occasione per rispondere anche a domande che ho sentito in commissione io ho risentito qui quali sono i vantaggi dal punto di vista educativo ottenuti creando la fondazione generiamo io direi che la domanda è malposta la domanda giusta avrebbe dovuto essere è stata la fondazione in grado di mantenere gli standard qualitativi dei nidi comunali la risposta non può che essere sì ma non perché lo dice l'amministrazione ma perché si è fatta la scelta politica di non fare figli e figliastri ma di mantenere gli stessi standard qualitativi sia per gli spazi per la preparazione delle educatrici per la formazione per il percorso psicopedagogico tenendo in capo al comune la regia e il coordinamento di tutte le funzioni coinvolte e in questa delibera le garanzie del controllo analogo la garanzia del controllo analogo è un requisito fondamentale requisito ampiamente soddisfatto altro vantaggio strategico importantissimo ottenuto con la fondazione è la rapidità di risposta alle necessità dei cittadini che mutano molto velocemente e il pubblico per sua natura a tempi di risposta biblici che non sono in grado di soddisfare le richieste di una società che muta così velocemente una delle accuse che spesso ci vengono rivolte e che le educatrici della fondazione sono pagate peggio di quelle del pubblico sono pagate ovviamente diversamente con un contratto collattivo nazionale già in uso da parte di altre organizzazioni pubbliche diversità che consentono di assumere più rapidamente che permettono a queste dipendenti di fare carriera e quindi di avere stipendi diversi in funzione delle competenze e abilità acquisite nel tempo cosa impensabile nel pubblico dove si fa carriera solo per anzianità mettere in dubbio che la qualità del lavoro svolto e qui è stata fatta delle educatrici di fondazione possa risentire della retribuzione inferiore rispetto alle educatrici comunali è un'offesa nei confronti di queste lavoratrici e del personale comunale che le coordina anche se vi fosse un alto turnover fra le educatrici di fondazione cosa di cui non c'è contezza cioè non sarebbe un demerito educatrici con un curriculum di tutto rispetto potrebbero andare a lavorare per altre organizzazioni portando a quelle organizzazioni ulteriori benefici dei loro servizi e della loro professionalità acquisita e noi potremmo dare la possibilità ad altri giovani di iniziare una carriera e consona con i loro studi e le loro passioni in un ambiente professionale di alto profilo non nascondo che il mio desiderio sarebbe quello di vedere tutti i nidi gestiti da fondazione perché sono fermamente convinto che la pubblica amministrazione e nello specifico quella comunale ha il dovere di dare risposta ai bisogni dei cittadini e farlo con la più alta qualità e flessibilità possibile nonché al costo più ragionevole raggiungibile pratica impossibile da raggiungere con l'impostazione alcaica dei nidi comunali e di tutta l'amministrazione pubblica ma è un mio augurio e io non faccio il sindaco grazie 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 a lei ci sono altri interventi in aula prego grazie presidente ma io volevo intervenire sono d'accordo con ciò che è stato detto dai miei colleghi ma proprio perché faccio questo di lavoro parto da un presupposto anche rispondendo al consigliere Pogliaghi per arrivare a fare l'educatore l'insegnante il professore c'è un lungo percorso di studi che a differenza magari del settore pubblico nel settore privato in cui magari si studia e poi ci si specializza nell'azienda chi intraprende un percorso di studi penso a scienza dell'educazione o scienza della formazione primaria si arriva si esce ci si laurea in cui ci sono competenti nel lavoro in cui si fa non c'è bisogno di iniziare da zero per poi arrivare a fare carriera anche perché nel settore educativo sappiamo benissimo che lo si fa prevalentemente per vocazione non certo per una per lo stipendio che sia pubblico o che sia nel settore privato cioè il che penso che il bambino è l'interesse primario del servizio non tanto in quello economico e questo non giova neanche agli insegnanti che appunto molto spesso soprattutto nelle scuole private cambiano e aspettano i concorsi per poi entrare ed accedere nel settore pubblico questo avviene e credo che nessuno di noi abbia in quest'aula interpretato cioè paragonato le competenze delle educatrici del comune che lavorano da decenni con quelle delle fondazioni generiamo semplicemente perché le educatrici di fondazione generiamo hanno un titolo di studio cioè dietro di loro hanno anni di studio la nostra era un'altra non entro nel dettaglio perché siamo già tardi eccetera però il nostro ci tengo a precisare che nessuno di noi ha dato delle incompetenti alle educatrici di fondazione generiamo. Ciò che mi dispiace invece è che le educatrici di fondazione generiamo e le educatrici del comune non lavoreranno più nello stesso settore, nella stessa scuola perché forse è vero che le educatrici più giovani che magari si affacciano al lavoro e quindi la richiesta di lavoro imminente è quella di una fondazione rispetto appunto a aspettare un concorso pubblico che ci vuole più tempo ma quelle educatrici potevano lavorando a fianco a fianco con le educatrici comunali potevano in qualche modo iniziare a assorbire anche ciò che è stato seminato negli anni quindi le competenze che riguardano proprio il settore educativo degli asili in idoli stesso San Giovanni così invece in qualche modo viene esternalizzato un po' il lavoro fatto per le educatrici comunali che hanno una storia rispetto a quello di educatrici di fondazioni che ne hanno un'altra. Io credo che sia un po' questo il filo conduttore di ciò che noi abbiamo detto questa sera riguardo proprio le competenze, non entro nel dettaglio per quanto riguarda gli stipendi sappiamo che il settore educativo ha gli stipendi più bassi di tutti anche in Europa soprattutto in Italia come nazione gli stipendi degli insegnanti e degli educatori sono i più bassi nella media europea grazie grazie consigliere Garotta consigliere Appini, lei era già intervenuta prima chiedo gentilmente di rispondere per fatto personale mi sono state attribuite delle parole, delle frasi che non corrispondono a quello che è il mio pensiero terminata la discussione, ne prendiamo altro grazie altri interventi in aula? chiudo a questo punto la discussione c'è mi sembra la replica dell'assessore Pizzocra prego hai la parola grazie presidente allora ci tenevo a completare un'informazione che forse mi era sfuggito visto che il consigliere Gatti appunto mi ha detto che mancava un anno forse non avevo letto il 2020-2021 33 educatrici assunte nell'anno un'educatrice con licenziamento fuori dal periodo di prova per delle problematiche e che ovviamente per privacy non diremo e due educatrici dimesse in periodo di prova ci tengo a dire che la sensazione di esserci un alto turnover nei nidi di fondazione è data forse perché nel periodo della pandemia avevamo necessità di un numero maggiore di educatrici assunte non a tempo indeterminato come sono tutte le educatrici di fondazione a parte le educatrici che sono a supporto della sezione in caso di bambino con difficoltà o di certificazione o anche se non ha la certificazione delle difficoltà nel periodo pandemico proprio per una questione di bolle eravamo alla ricerca di educatrici a tempo determinato e quella è stata la grande difficoltà nostra come di tutti gli altri settori che cercavano educatori quindi non solo nidi ma anche altri educatori H eccetera quindi quella forse è stata la sensazione ma i tempi indeterminati all'interno dei nidi di fondazione hanno una buona stabilità questo è quello che noi ci portiamo a casa anche perché l'ultimo anno il rapporto è ancora più diminuito 62 educatrici, 2 dimissioni volontarie quindi il rapporto va sempre più diminuendo tra le educatrici assunte e le educatrici che scelgono di dimettersi di cambiare da torre di lavoro per qualunque sia la motivazione un altro punto vorrei prendere che non è oggetto di delibera però i posti al nido, nei nidi comunali sono aumentati negli ultimi sei anni nel momento in cui il nido 20 settembre è stato chiuso tutti i posti nido del nido 20 settembre sono stati assorbiti negli altri nidi perché i nidi anche quando erano nidi 100% personale comunale avevano una capienza maggiore rispetto alla capienza effettiva la capienza effettiva è data da un equilibrio di costi posto nido costi cioè del personale e posto nido i bambini che possono frequentare il nido che deve avere un determinato equilibrio questo nei nidi comunali nei nidi di fondazione ad esempio proprio quest'anno con la nuova direttrice sta valutando e credo che in questi giorni in realtà si stia realizzando l'assunzione di un'educatrice a tempo indeterminato jolly in modo tale da consentire di aumentare il numero dei bambini che possono frequentare i nidi di fondazione nel tempo pieno cioè fino alle 16.30 e qui vengo alla critica che ci è stata posta assolutamente senza senso mi dispiace dirlo ma è proprio senza senso da sempre i nidi comunali hanno dei posti a tempo parziale dei posti a tempo pieno e dei posti fino alle 18 e l'equilibrio il numero di questi posti è sempre stato stabile ed è stabilito proprio da quell'equilibrio che dicevo prima costo personale e numero di bambini il rapporto 1 a 5 1 a 7 prima 1 a 8 1 a 10 dalla legge regionale 29 29 del 2020 quindi se ci sono quest'anno delle recriminazioni che sono arrivate alle orecchie di alcuni consiglieri non è una questione o eccezionale o è una questione causata da una nostra incompetenza o inadempienza degli uffici dei nidi a non riuscire a fornire ciò che perché è sempre stato così probabilmente quest'anno forse più di altri alcuni genitori lo sentono come un reale disagio ma il numero l'equilibrio tra i tempi parziali tempi pieghi tempi finali 18 è sempre stato questo il nido 20 settembre appunto quando venne chiuso la soletta del secondo piano è inagibile quindi il secondo piano al momento non può essere utilizzato tanto che tanto che non può esserci nessuna attività né di laboratori per disabilità né di centri anziani né tantomeno di nidi e questo è quanto per quanto riguarda invece il servizio per mano il servizio per mano aveva un elemento estremamente positivo che era quello di fornire una formazione a possibili potenziali tate sulla città qual era la problematica di quel servizio era come poi questo servizio era concepito ossia faceva matching quindi la pubblica amministrazione con personale comunale faceva matching tra la tata formata e la famiglia richiedente questa azione non è questa media questa è mediazione lavorativa e questa mediazione lavorativa non è in capo a un ente pubblico quindi non può essere esercitata maggior ragione che non si sapeva in modo abbastanza rilevante che non vi era poi un contratto di lavoro tra la famiglia e la futura tata che poteva essere controllato in qualche modo dall'ente quindi si rischiava di costituire una prerogativa di lavoro in nero quindi questo non era assolutamente tollerabile se invece i consiglieri avessero letto con attenzione il DUP che ora poi andremo a ripresentare quindi lo ritroverete vi è proprio un passaggio nella volontà da parte dell'amministrazione comunale di fornire un servizio di formazione per future tate della città utilizzo la parola tata giusto per farci capire comunque di appunto educatrici per per le famiglie e quello che ci ospitiamo è che sia fondazione generiamo a derogare questo genere di formazione anche perché ha in sé psicopedagogiste coordinatrici con i titoli necessari per poter erogare anche questo tipo di formazione la fondazione è un ente del terzo settore quindi tutta una serie di attività che sono precluse all'ente pubblico in realtà sono realizzabili da un ente del terzo settore e quindi verso questa strada e questo obiettivo io cercherò di indicare l'amministrazione di fondazione generiamo di dare indicazione all'amministrazione di fondazione generiamo e quindi poi insomma di di attivare un servizio di questo tipo sulla città grazie grazie assessore consigliere appini lei voleva una prova per fatto personale approfitto tanto per fare una domanda consigliere gatti prima va chiesto era anche lei perfetto prego consigliere appini a 5 minuti tempo allora io rispondo a quanto è stato detto ancora questa sera a proposito dei fuochi d'artificio abusivi allora chiariamo una cosa le segnalazioni sui fuochi d'artificio abusivi arrivano arrivano da ogni città italiana tutte le città italiane in questo momento stanno parlando di questo hanno lo stesso problema mi è stato attribuito di aver parlato in maniera molto banale quando io invece ho riportato un fatto realmente accaduto e parlavo quindi con cognizione di causa ancora una volta mentre qualcuno invece non lo fa e da fiato alle trombe sto parlando in generale quindi non sto puntando il dito su qualcuno che magari fa i giornali le giornalate dicendo sciocchezze quindi dicevo queste segnalazioni avvengono in ogni città a Roma a Torino a Napoli le ragioni sono le ragioni sono per favore le ragioni sono avete citato voi questo argomento prima uscendo certo che è un fatto personale nel momento stesso in cui viene l'esa la mia onorabilità la consigliera ha diritto di replica l'avete citato fuori voi questo discorso prima però voi prima voi prima si era consigliera Pagani che era consigliera Amdi si era pagani ne ha anche dichiarato sarebbe uscita fuori tema avete attribuito con nome e cognome determinati fatti e circostanze la consigliera Pagani ha diritto di replica questa è la linea che sto tenendo no Amdi non mi risulta non sta parlando di altro attirando in ballo altro quindi sta giustamente replicando delle vostre affermazioni e credo che sia un diritto fuori tema anche prima è un altro discorso prego prosegua consigliera Pagani quindi dicevo che queste segnalazioni arrivano da tutte le città basta leggere i giornali perché poi sono informazioni che prendo dai giornali alcune quelle che riguardano la città non le prendo dai giornali le prendo dai dati realmente accaduti della nostra polizia locale quindi segnalazioni dicevo di questo tipo arrivano per tutti arrivano per festeggiare ricorrenze santi patroni attenzione sto parlando sempre di abusivi non sto parlando di autorizzati quindi santi patroni scarcerazioni adesso si sono aggiunti anche i traguardi sui social signori udite udite addirittura a centomila follower vai un dieci minuti piuttosto che un cinque minuti di fuochi d'artificio è assurda questa situazione però non credo che serva puntare il dito perché io ho fatto notare un fatto realmente accaduto a Sesto San Giovanni di un battesimo davanti a casa nostra Soad e penso che tu sappia di che cosa sto parlando giusto per darvi qualche dato nell'ultimo mese e mezzo circa quattro patrimoni due inaugurazioni di esercizi commerciali sto parlando di Sesto due battesimi e non si contano i compleanni questi sono stati multati io vorrei capire perché mi devono essere attribuite falsità e banalità quando io mi sono semplicemente riferita a fatti realmente accaduti e lo ripeto a Sesto San Giovanni matrimoni inaugurazioni di esercizi commerciali battesimi e i compleanni queste sono le ragioni ad oggi accertate e multate dalla nostra polizia locale quindi direi che con questo chiudiamola qua perché è triste mi è arrivata anche oggi come presidente di commissione una richiesta di una commissione su questi temi io mi sono solo domandata per un secondo ma dove può arrivare un'amministrazione comunale perché ci sono dei limiti dove San Roberto Di Stefano purtroppo ha per favore consigliere Foggetta per favore c'è un regolamento ripeto nel momento in cui viene l'ESA l'onorabilità di una persona fatto anche per iscritto con tanto di giornalate la prego consigliere Foggetta almeno in questo momento usi la cerniera e chiuda la bocca le chiedo una cortesia per favore moderiamo i toni per favore c'è la piazzata moderiamo i toni mamma mia ragazzi per favore ha concluso come io mi dovrei per favore sto richiamando l'ordine in aula e la prego di rimanere in aula visto che voleva veramente è vergognoso il comportamento di queste persone non ammettano di essere non ammettano chiedo scusa chiedo scusa allora signori consiglieri mi rivolgo a tutti se durante una proposta di delibera decidete di uscire di strada ok di allargare gli argomenti il sottoscritto non interviene non perché è distratto o perché fa altro ma perché lascia libera la discussione dopodiché però non vi appellate al regolamento se qualche consigliere e sto parlando in modo trasversale decide di replicare a delle affermazioni perché l'avrei fatto sia da una parte che dall'altra quindi decidiamo quale metro di misura vogliamo ottenere visto che l'HP Gruppo bene o male se ne parla allora se decidete di uscire se decidete di uscire dai binari della proposta di delibera in questione dovete anche accettare le eventuali conseguenze non mi sembra di applicare due pesi e due misure detto questo no consigliere Foggetta penso che abbiamo anche modo di confrontarci in altra sede anzi a breve mi sembra che avremo anche avrò occasione di farlo visto che l'avete inlantato voi detto questo passo la parola al consigliere Gatti 5 minuti anche per lei prego io spero di essere molto più pacato se no basta pochi attivici allora io ho chiesto la parola per fatto personale in riferimento a tre affermazioni fatte una dalla consigliera Pini che se rimane in aula mi fa una cortesia ma non credo voglia rimanere in aula che ha detto vabbè vado avanti o vediamo il consigliere si svolge in aula dopodiché fuori da lì non ho modo di c'è la locale comunque prego prego consigliere Gatti proseguiamo poi ogni consigliere si assume la responsabilità prego vabbè allora al netto di tutto quello attorno per favore chiedo fuori dall'aula però di non fare disordine prego consigliere Gatti va bene trovo la discussione poco interessante allora eh esatto e va avanti tuttiamo l'ordine almeno in aula chiedo silenzio prego consigliere Gatti prosegua poi metteremo conto eventualmente nel tempo si figuri allora dicevo chiesto la parola per fatto personale in relazione a tre affermazioni fatte due dalla consigliere Apini che non è in aula al momento e una dal consigliere Vincelli collegato a distanza l'affermazione che chiedo al presidente se è possibile di stigmatizzare è quella che faceva riferimento al fatto che i consiglieri di opposizione parlano e prendono posizione attraverso ordini di scuderia io credo che sia pacifico ammettere che tutti i consiglieri hanno la medesima dignità e affermare una cosa del genere è svilente del ruolo e quindi gradirei se è possibile che venga censurata questa affermazione le altre due mi scusi presidente mi scusi presidente mi scusi presidente per favore uno alla volta consigliere non mi sape io non mi parlo a nessuno consigliere dopo avrà diritto di replica visto che è stato citato uno alla volta così io non potevo uno alla volta per favore grazie un intervento più tranquillo di così era difficile da pensare le seconde due affermazioni tra cui c'è anche quella fatta dal consigliere Vinceli che ovviamente non ha fatto quella precedente che è stata fatta dalla consigliera Pini che magari è questo che ha creato un po' di sollecito è vero che vi è arrivato riferendosi al documento del Revisore dei Conti la domanda che vorrei fare al presidente che prego che possa fare chiarezza è vi è arrivato è un errore o si riferisce al fatto che il consigliere Vinceli ha ricevuto un documento prima di noi finisco chiuso vado velocissimo l'altra cosa è relativa a un documento o un'informazione che la consigliera Pini durante il suo intervento ha detto più volte di avere su dei dati che io ho richiesto in commissione tutto registrato basta andare a controllare che a me non sono arrivati ora se questo è dovuto a una chiacchierata con l'assessore fuori dalle porte del consiglio è informale ci mancherebbe se invece questo è avvenuto perché il consigliere di maggioranza riceve una risposta a domande che ha fatto un consigliere di opposizione e il consigliere di opposizione no questo è molto grave e credo che debba essere indagato faccio presente e finisco che comunque questa informazione detta anche come è stata detta oggi in aula non è un documento quindi ha una validità sicuramente inferiore al tipo di richiesta che io avevo fatto in commissione grazie grazie consiglieri Gatti non ho difficoltà assolutamente a confermare che l'avevo notato anch'io prima l'interlocuzione di Vincelli quando parlava al plurale vi è arrivato i pareri dei revisori confermo che i pareri sono arrivati a tutti i consiglieri compresi il sottoscritto nel medesimo giorno nel medesimo orario ovvero questa mattina comunque lascio anche lui giustamente adesso la replica visto che è stato citato in questo anche per precisare eventualmente questo fatto ma io non ho difficoltà a dire che i documenti pare avevo notato anch'io questo suo modo di prego se le vinceglie a lei la parola sì allora intanto io non ho citato il consigliere che mi ha preceduto ma sono stato citato almeno una decina di volte stasera ma su questo vado oltre perché vorrei andare chiaramente alla cosa importante portare a casa la delibera quindi votare io ho detto una cosa e faccio questa precisazione il collegio dei revisori che tutti abbiamo ricevuto stamattina è datata 22 luglio io questo ho detto andate a sentirvi registrazione non ho detto cose diverse chiaro e non ho citato se non in generale se non in generale i consiglieri grazie presidente posso fare una precisazione a proposito di questo senza polemica eh una proposito proprio del cui il cui pro quo sulla sui divisori sulla revisione sul documento dei revisori abbiamo già documento è datato 22 abbiamo già già confermato Vincelio ho confermato anch'io che i documenti sono arrivati questa mattina e sono datati 22 luglio si volevo spiegarne le ragioni così almeno era chiaro il perché era datato 22 ed è arrivato il fatto personale o non possiamo andare su altri non c'è problema grazie grazie a lei a questo punto procediamo con la dichiarazione di voto della proposta in questione numero 6 all'ordine del giorno per favore chiedo un po' di silenzio in aula grazie città in comune consigliera Pagani sì grazie presidente mi sembra evidente per tutte le cose che ho ribadito insomma nel mio nel mio intervento soprattutto come ci tengo a ribadire ancora mi insisto che qua sembra che ci sono fazioni tra chi dice sono aumentate la qualità è rimasta la stessa la qualità è migliorata la qualità è peggiorata io sono ferma al fatto che non ci sono strumenti per misurarla e quindi tutto vale e niente vale e credo che questo sarebbe davvero un salto di qualità nella gestione di questo servizio perlomeno anche il fatto stesso che le educatrici che gestiscono la disabilità siano a tempo determinato è un elemento o come dire che pone che pone i quesiti di qualità del servizio e chiudo avendo ovviamente solo due minuti per la dichiarazione di voto spiegando appunto la nostra contrarietà a questa delibera grazie l'eventiamo sesto consigliere andi voto contrario europa verde sinistra italiana consigliere foggetto allora il voto ovviamente come avrete capito come avete capito sarà contrario intanto per dire che consigliere Pogliaghi fondazione è un ente dotato di personalità giuridica privata quindi a tutti gli effetti questa è un'esternalizzazione ed è quello che si sta facendo con quel 38% di risparmi se volete no va bene però diventa quel business di cui lei stava parlando consigliere Pogliaghi perché si va a cercare minima spesa massima resa percato che la massima resa i genitori dicano non essere non essere massima cito per l'undicesima volta il consigliere Vincelli che parla di parla di Milano parla di CGL e mi dice poi che non ha sentito le polemiche in territorio se stese da parte dei genitori mi dispiace noi ne abbiamo sentite tante noi ne abbiamo sentite tante di famiglie che sono state chiamate per andare a prendere i bambini prima perché c'era carenza di personale poi permettetemi l'ultima battuta Bonato dice che le educatrici non sono pagate meno sono pagate differentemente e io non sono pelato sono differentemente ipertricotico l'ultima cosa non rispondo all'ultimo intervento della consigliera Pini e neanche al affrontami affrontami di fuori come disse una grande filosofa italiana Anna Tatangelo quando la persona niente l'offesa è zero Deca Salvini consigliera Pini scusate prego prego consigliera Pini alle dichiarazioni di voto consigliera Pini alle dichiarazioni di voto favorevole forza Italia consigliera Cupido favorevole partito democratico consigliere Maderloni Rari gruppo misto consiglieri vincelli grazie presidente rimarchiamo con forza la scelta su fondazioni generiamo da parte di questa amministrazione e l'obiettivo resta ancora il sogno di una fondazione forte e autorevole efficace ed efficiente che si prende cura dei piccoli cittadini della nostra città ma che ha ben individuato nell'articolo 3 dello statuto le proprie finalità una gestione snella che lavori sui migliori standard disponibili e li faccia crescere costantemente con collaboratori stabili e di lungo periodo che siano il nostro e il loro orgoglio per il bene di noi stessi e delle nostre famiglie stiamo lavorando per un bene superiore stiamo lavorando per le famiglie sestesi la città è intrepida e attenta attesa di svegliarsi con un bel sogno diventato realtà avanti così noi moderati all'interno del gruppo misto conferma il voto favorevole alla deriva in questione grazie presidente abbiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente allora io ho avuto modo ho avuto modo di seguire i primi passi della fondazione generiamo quando siamo andati a Modena a Reggio Emilia per vedere come avevano improntato loro il servizio a distanza di questi anni non posso che essere soddisfatto noi siamo come amiamo sesto io come portavoce soddisfatti del lavoro che si sta facendo raccomandiamo sempre che ci sia il controllo da parte del comune degli esperti perché lo riteniamo indispensabile ma siamo altamente soddisfatti di quello che sta accadendo di conseguenza il nostro voto sarà favorevole grazie fratelli d'Italia consigliere Turolla grazie presidente voto favorevole sindaco consigliere Pogliaghi grazie presidente voto premetto e favorevole dico solo una cosa giusto per onore all'informazione la fondazione evidentemente è di partecipazione pubblica non serve essere un notaio basta google la fondazione di partecipazione è un fenomeno libero nato dalla necessità di avere da una parte la gestione il coordinamento tipico degli enti pubblici dall'altra l'efficienza dell'efficacia del privato in sindesi si tratta di una collaborazione tra gli enti pubblici e le strutture private per fini di interesse pubblico cento per cento pubblico in house l'avete detto voi l'ho ripetito io sa cosa vuol dire in house benissimo questo fate terminare non c'è bisogno replicare è una domanda rettorica e a favore ordine in aula consigliere Pogliaghi consigliere Bonato Pogliaghi prosegua grazie consigliere Bonato per favore consigliere Bonato completamente in house quindi con tutto l'interesse pubblico a mantenere i servizi non è nessun tipo di esternalizzazione grazie per favore adesso attendiamo per procedere al voto di questa proposta di delibera possiamo procedere consigliere Vincelli da remoto favorevole grazie presidente consigliere Amilazzo contraria con sedici voti favorevoli e otto contrari la proposta di delibera viene approvata attendiamo per procedere alla votazione dell'immediata eseguibilità possiamo procedere manca una votazione consigliere Vincelli favorevole grazie presidente consigliere Amilazzo contraria grazie con sedici voti favorevoli e otto contrari la delibera è immediatamente esecutiva passiamo alla proposta di delibera di quel punto sette scusi presidente io mi dispiace ma purtroppo io abbandono ringrazio ringrazio tutti i partecipanti e vi auguro una buona notte grazie consigliere vincelli prendiamo atto stavo dicendo proposta di dire di quel punto sette revisione ed aggiornamento del piano regolatore cimiteriale del comune di Sesto San Giovanni approvazione non ci sono relatori di commissione passo la parola all'assessore Aiosa alla quale approfitto di augurarle buon compleanno visto che oggi agli anni auguri prego grazie presidente dunque vi ho pensato di riassumere la delibera per punti perché come abbiamo visto in commissione è abbastanza articolata e vista anche l'ora riassumo quello che abbiamo analizzato in commissione il piano cimiteriale è stato introdotto nel 90 la legge regionale nel 2009 nel 2019 prevede che all'interno ci siano le aree cimiteriali in grado di rispondere alle esigenze di sepoltura dei cittadini e tutte le strutture tecniche di supporto a che cosa serve il piano cimiteriale a far fronte alle esigenze future ricavato attraverso un calcolo previsionale che all'interno della commissione l'architetto Loda ci ha spiegato bene come viene fatto la previsione il piano cimiteriale dura 10 anni ma la previsione in realtà è ventennale per non ritrovarsi poi alla fine del decennio in mancanza di posti e poi serve per avere un dimensionamento corretto dell'intera attività edilizia che viene fatta all'interno dei cimiteri sia per quello che riguarda la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura sia per la quantificazione di tutti gli spazi di servizio e impianti tecnici noi stiamo ancora usando un piano cimiteriale che in realtà aveva scadenza il 29 febbraio del 2022 perché è votato nel 2012 perché siamo in ritardo di un anno e mezzo nella votazione in consiglio del piano cimiteriale perché a un certo punto del percorso siamo stati bloccati da ATS ovvero per chiarezza di informazione abbiamo dato in carico allo studio tecnico dell'architetto Loda il 2 settembre del 21 e il 31 maggio del 22 la giunta adotta la bozza di delibera in questo intermezzo abbiamo chiesto come si deve fare parere ad ARPA e parere ad ATS e per il monumentale la sovraintendenza perché ATS ci ha bloccato perché in realtà si è accorta che l'area di rispetto cimiteriale non era rispettata scusate il gioco di parole siamo andati ad indagare su questo e ATS ci chiedeva il parere del medico provinciale stimato nel 73 sul monumentale dove erano già state ridotte le fasce di rispetto del cimitero monumentale che non abbiamo trovato e all'interno invece del cimitero nuovo il problema è stato che nel 2012 quando venne votato il precedente piano cimiteriale all'interno del piano cimiteriale si prendeva atto delle riduzioni delle zone ma in realtà non era stata fatta una delibera di consiglio apposita per ridurle perché questa importanza questo accento messo da ATS sull'area di rispetto perché in realtà le aree di rispetto servono perché nel momento in cui tu devi andare in ampliamento dei cimiteri devi avere lo spazio per poterlo fare in realtà questa è una situazione non presente in quasi tutti i cimiteri anche delle città limitrofe anche nelle nostre abbiamo fatto una contradduzione molto attenta dicendo che con una buona rotazione all'interno dei cimiteri che tra l'altro anche ATS a settembre auspica di lavorare sodo in questa direzione preventiviamo che nei prossimi vent'anni non ci sarà comunque bisogno di andare in ampliamento dei cimiteri che cosa cambia che poi credo che sia quello più interessante all'interno da votare in questo consiglio comunale che cosa cambia tra il piano vigente e il nuovo piano cimiteriale innanzitutto è stato spiegato bene in commissione c'è stato un cambio di abitudini un cambio di consuetudini dei nostri dei nostri cittadini sulle sepolture ovvero se prima la maggior parte delle sepolture avvenivano in tumulazione in loculo o a sepoltura a terra negli ultimi cinque anni ci si è spinti i cittadini si sono spinti e si sono indirizzati molto di più verso la cremazione di conseguenza una diminuzione di richiesta di loculi e un aumento di bisogno di cinerari e di ossari ATS ci dice che la rotazione secondo i nostri calcoli ormai si aggira la rotazione di quello che riguarda i cinerari ormai si aggira intorno al cinquantasei e otto abbiamo però voluto essere un pochino prudenziali perché ci sono delle condizioni che si potrebbero verificare o meno quindi noi all'interno del piano cimiteriale in ogni caso abbiamo inserito gli spazi per due mila e ottocento uno nuovi loculi perché il fatto di diminuire la costruzione dei loculi dipenderà da quanto aumenterà la richiesta di cinerari e quindi la scelta della cremazione e di quante persone decideranno di non rinnovare l'utilizzo dei loculi a scadenza di convenzione quindi essendo un dato che noi non possiamo avere come certo ci siamo creati una bolla di riserva dicendo in ogni caso all'interno del cimitero ci diamo la possibilità di poter costruire due mila e ottocento uno nuovi loculi nel caso le aspettative non fossero rose come ce le immaginiamo per quello che riguarda invece i cinerari ce ne siamo riservati cinquemila cinquecentosessantanove in più questo invece per il discorso opposto ovvero se è vero che la percentuale di gente che sceglierà la cremazione quindi la scelta del cinerario è tendenzialmente così alta dobbiamo comunque preventivare di avere un pochino di spazio in più per costruirne di più altro punto che cambia dal vecchio piano al nuovo è la realizzazione del giardino delle rimembranze che crediamo possa incentivare molto la scelta della dispersione delle ceneri non tanto in prima fase cioè non tanto quando le persone hanno nell'immediato lutto ma sicuramente nel momento in cui andiamo ad esumare da terra o a estumulare dall'oculo noi in questo momento abbiamo un luogo di dispersione delle ceneri che è il cinerario comune abbiamo pensato che creare il giardino delle rimembranze possa dare la possibilità di avere una maggiore cura e un maggiore rispetto anche per chi deciderà poi di non avere più il cinerario del suo caro per tutti i nostri cittadini si conferma presso l'odierno campo G la localizzazione del campo dedicato ad ospitare le sepolture dei professanti culti diversi anche questo è un argomento che abbiamo affrontato all'interno della commissione noi politicamente lo confermiamo anche se non abbiamo avuto richieste in questi anni di sepolture di fedi diverse e questo perché parlando anche con gli impresari funebili ma anche con persone della nostra città che non non professano il culto cattolico perché esattamente come molti di noi decidono poi di tornare nel paese d'origine o dove hanno gli altri familiari molti decidono a loro volta di tornare nella loro terra tra l'altro il trattamento di una salma soprattutto mi riferisco alla cultura islamica è diverso dalla nostra e noi non siamo neanche in grado non possiamo garantire scusate secondo legge la non presenza della bara ma non possiamo neanche garantire la non esumazione mentre invece loro nella loro concezione hanno la perpetuità della sepoltura quindi credo che per queste ragioni e per una volontà anche di tornare a casa molti non non scelgano poi di essere sepolti nei nei nostri nei nostri cimiteri in ogni caso politicamente abbiamo fatto la scelta di mantenere il campo dedicato è prevista la realizzazione di 200 300 posti per gli animali di affezione in questo caso devono essere cinerari cioè quindi animali che vanno alla cremazione e viene anche consentito secondo legge regionale del 2019 la tumulazione in teca separata di animali di affezione previ a cremazione nello stesso loculo o tomba di famiglia abbiamo anche detto all'interno della commissione che al cimitero nuovo al cimitero nuovo giusto verrà fatta una nuova cappella dove c'era l'ex casa del custode mantenuta comunque la sala dove può essere fatta la commemorazione laica c'è in previsione al cimitero vecchio nel famedio la costruzione nei lati del famedio dei cinerari e siccome i posti si stanno esaurendo abbiamo già trovato un nuovo luogo che è nella galleria J del cimitero nuovo dove potrà essere fatto quando ce ne sarà bisogno si spera il più tardi possibile il nuovo famedio abbiamo anche all'interno della delibera trovate lo stato di consistenza degli immobili su cui stiamo lavorando anche insieme all'assessore paterna perché soprattutto al cimitero monumentale ci sarà bisogno di fare degli interventi abbastanza consistenti e c'è tutto il censimento del verde che nei prossimi nel prossimo anno anno e mezzo sarà interessato da interventi abbastanza consistenti una cosa che metteremo all'interno del regolamento della polizia mortuaria che porteremo stimiamo entro fine settembre all'interno del consiglio comunale è la non possibilità di piantare alberi sulle tombe a terra perché anche in questi giorni è successo un disastro perché le persone li piantano non li curano da regolamento non potrebbero superare il metro di altezza abbiamo dei pini che sono più alti dei pini dell'ingresso del cimitero quindi onde evitare che si ripresentino queste situazioni nel nuovo regolamento non sarà più consentito piantare in terra alberi di nessun genere altro dato importante è la la concessione la durata delle concessioni dei loculi ATS ci invita ad avere una rotazione abbastanza veloce delle gallerie sui campi abbiamo fatto in questi sei anni un lavoro di recupero nel senso che abbiamo liberato circa 2000 posizioni ormai dei campi a terra sulle gallerie quindi sulle stimolazioni la prima è stata fatta nel mese di marzo perché andavano a scadenze che cosa succede sulle concessioni dei loculi abbiamo bisogno di ridurre la durata ovvero le durate passeranno da 25 anni a 20 anni perché questo è il tempo stimato in cui si può avere la mineralizzazione di un corpo e quindi il riuso dei loculi non ce la siamo sentita in questa fase perché avendo appena iniziato a estumulare non abbiamo ancora bene la percezione della sensibilità del cittadino di togliere completamente il rinnovo delle concessioni quindi in questo piano regolatore noi manterremo comunque la possibilità di rinnovo diminuendo però la durata del rinnovo e diminuendo lo sconto sul rinnovo ve lo dico in maniera più chiara per quello che riguarda il rinnovo dagli attuali 25 con il 15% di sconto della tariffa vigente passiamo a 10 anni con riduzione della tariffa del 5% faccio però presente una cosa le nostre tariffazioni di loculi ossari e cini rari non le tocchiamo dal 2004 quindi in realtà non andiamo ad applicare andiamo a diminuire lo sconto nel rinnovo dell'oculo ma su una tariffa molto vecchia questo perché lo facciamo e lo spieghiamo anche ai cittadini quando andiamo ad esumare e stumulare dall'oculo questo lo facciamo perché vorremmo rendere perdonatemi visto che stiamo parlando di un tema delicato vorremmo rendere meno appetibile il rinnovo a fronte comunque di una soluzione più definitiva per il momento la percezione che abbiamo è che sulle persone adulte c'è più la volontà di mettere ordine anche in quell'ala della vita e quindi quando riceviamo quando adesso abbiamo istumulato per esempio dei nonni e non c'era il nipote ma c'erano ancora i figli allora i figli hanno la voglia di mettere a posto per lasciare in ordine poi per i loro figli nei giovani invece c'è un pochino meno attenzione quindi c'è più la voglia di sbrigare un pochino più in fretta queste questioni e quindi abbiamo pensato di rendere innanzitutto l'area di dispersione delle ceneri renderà anche per chi vuole sveltire la cosa un pochino più dignitosa un pochino più raccolta e invece di andare a sversare nel nel cinerario comune e invece per chi comunque avesse intenzione di rinnovare comunque limitiamo il tempo in modo tale che poi le piastre ci si possano liberare più o meno nelle stesse annualità perché un altro problema poi è avere le piastre dei loculi molto differenziate per età abbiamo già tolto la possibilità di prendersi i loculi prima che le persone decedessero perché volevano stare vicine adesso però questa cosa è un pochino risolta perché magari sicuramente dentro in un loculo si riescono ad inserire anche le ceneri e quindi a livello emotivo questa roba è meno impattante abbiamo però l'esigenza di liberare gli spazi più o meno nelle stesse date altrimenti rimanendoci tutte a buchi di annualità non riusciamo mai a fare un lavoro organico e fatto bene credo di aver concluso ho riassunto tutto quello che ci siamo detti grazie grazie assessore apro questo punto la discussione chiedo se ci sono interventi in aula grazie 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 presidente come ho avuto modo già in commissione di dire io volevo esprimere un grosso applauso per il lavoro fatto dall'assessore aiosa e di tutto lo staff che ha collaborato con lei reputo che quanto fatto adesso da che io sono perlomeno in consiglio sia non una novità ma sicuramente un passo avanti importantissimo anche perché ha tenuto molto conto di quelle che sono le sensibilità delle persone e dei cittadini cioè l'analisi fatta sui cambiamenti delle abitudini eccetera eccetera non è solo tecnicamente ruotiamo i campi ogni 10 anni tiriamo su tutto scusate i termini però è anche tutta questa invece attenzione questa cosa la ricerca qui non so io ho stato chiamato fuori non so se ve lo sono perso anche la ricerca di tutti i parenti che gli uffici e i suoi collaboratori stanno facendo per gli istinti che sono arrivati a scadenza scusate se uso termini così non è cosa da poco uno potrebbe anche non interessarsi e dice vabbè se presentato nessuno ti tutto ha sistemato il problema non ultimo anche il discorso del parco delle rimembranze adesso visto che c'è questo orientamento alla cremazione per tutta una serie di motivi il covid anche in questo senso probabilmente ha dato una mano a far decidere in tal senso anche il fatto di non essere così banale c'è un pezzo di terreno e basta invece di studiare una cosa tra parentesi il progetto che è stato presentato in commissione ho fatto personalmente i complimenti all'architetto e li rifaccio qui davanti a tutti in modo che rimanga anche perché è un lavoro fatto veramente bene e molto attento per cui il mio interesse era solo in questo senso cioè di dire di portare di nuovo i complimenti per un lavoro fatto veramente bene onestamente non trovo nulla da recepire poi se ci sono delle motivazioni politiche che possano fare di sentire vabbè io faccio faccio fatica a trovare ma non è il mio compito ecco tutto qui grazie ancora assessore e buon compleanno c'è Molteni qualche altro intervento in aula prego cos'è la garotta sarà molto veloce anche noi abbiamo letto il nuovo piano regolatore cimiteriale e siamo rimasti molto bene appunto il campo per la rispersione delle ceneri che appunto penso che in questo periodo di storia di questo nostro della nostra nazione sia ormai una consiettudine appunto procedere con la cremazione per appunto magari evitare anche un domani di lasciare in eredità queste problematicità anche ai parenti non direttamente collegati e anche il campo per gli anni amere domestici che se non erro era uno dei punti programmatici del sindaco del vecchio programma appunto del 2017 e siamo contenti anche perché nel corso degli anni ci si è resi conto soprattutto che c'è stata un po' un'emergenza posti nel ricavare i posti e questo ci siamo accorti soprattutto quando appunto ci sono state le esumazioni ordinari nel campo del cimitero nuovo che non sono strascorsi i famosi uno o due anni adesso non ricordo di riposo del campo ma è stato necessario l'inumazione appunto delle salme anche dovute poi soprattutto al periodo della pandemia e il covid nel quale si potevano appunto se non è rinumare oppure cremare l'unica nostra insomma perplessità ma capiamo appunto che anche con il discorso di ATS è stata appunto la riduzione della delle concessioni appunto si passa da 25 all'epoca era 50 anni poi si è passato a 25 ora 20 con una sola possibilità di rinnovo quindi diciamo si passa dai 30 anni da diciamo 50 anni ai 30 crediamo appunto però che ci può essere appunto una problematicità legata allo spazio e una difficoltà anche di una ciclicità che permette poi l'inumazione di nuove salme e un altro appunto è sicuramente un imminente lavoro di manutenzione immagine appunto che è anche citato per quanto riguarda poi il cimitero vecchio che percorrendo soprattutto le gallerie Cibis e G e anche la cappella dove sono sepolti anche i sacerdoti le suore religiosi ci siamo resi conto che c'è un stato di di grado anche dovuto ad infiltrazioni quindi quello sicuramente sarà oggetto immagino appunto anche dal PGT sarà di lavoro e grazie grazie a lei la volta altri interventi in aula questo punto dichiaro più chiedo scusa prego se legati grazie presidente no ma sarò abbastanza telegrafico perché sottoscrivo quanto detto dal consigliere di Garotta e volevo raggiungere un paio di elementi primo in realtà era ringraziare l'assessora per il lavoro fatto in commissione che ho sinceramente apprezzato anche per essersi presi i giusti tempi per una commissione che è stata obiettivamente lunga però per un tema che lo richiedeva e anche il fatto di aver avuto i tecnici che hanno seguito il diciamo la delibera tutto il lavoro che sicuramente c'è stato dietro ha aiutato nella comprensione e nel capire che tipo di lavoro è stato fatto l'ho trovato un momento molto positivo voglio aggiungere secondo me giusto due cose che sono elementi di criticità guardando molto avanti non guardando ad oggi e visto che secondo me è stata molto positiva quella commissione il mio invito è quello di non aspettare eventualmente il termine di questo piano per parlare di questo tema che magari non sarà il più mediatico delle competenze comunali sicuramente però in realtà interessa ai cittadini molto più di tanto altro e visto le grandi trasformazioni che presumiamo ci saranno in città nei prossimi anni che l'amministrazione scrive nero su bianco sul DUP se ci si dovesse accorgere nei prossimi anni di un aumento veloce vertiginoso della quantità di popolazione sul territorio che vada un pochino a superare quello che sono le prospettive predisposte dal piano regolatore cimiteriale io l'invito a quello di rivedersi eventualmente in commissione per tenere attenzionato questo argomento anche perché con motivazioni che secondo me sono state chiarite sia in commissione che qui questo piano arriva con più di un anno di ritardo comprensibilmente a quanto detto per evitare diciamo in futuro di lasciar passare eccessivamente troppo tempo l'invito è quello comunque di coinvolgere per quanto possibile i consiglieri comunali niente solo questo grazie grazie a lei 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 solo una precisazione in commissione era stato raccontato forse non è stato detto adesso dall'assessore che per la restauro della cappella nel cimitero vecchio comunque si sono presi contatti anche con Brera per poter far intervenire poi gli studenti anche addirittura aprire una collaborazione in quel senso al fine della riqualifica fatta in maniera professionale da gente competente proprio della stessa mi premeva aggiungere un commento che mi ha colpito molto nella commissione che abbiamo fatto ed è stato il commento dell'architetto Piazza che ho sentito ho avvertito sentirsi molto valorizzato per quello che è stato lo spazio che gli è stato dato nella creazione di tutto e nel concepimento di tutto l'itinerario delle rimembranze penso che questo sia il compimento di un'amministrazione che è capace di portare a terra in maniera direi completa la progettualità perché quando la progettualità dove viene valorizzato il personale che fa parte dello staff e penso che questo sia una delle cose più lo diceva ad Alessandra l'assessore dopo la commissione penso che questo sia anche la soddisfazione più grande che un leader di un team come un assessore in questo caso possa ricevere come complimento della sensibilità è stata detta è chiaro che per quanto riguarda i tempi di rinnovo si è dovuto fare delle scelte perché comunque dobbiamo ricordarci che nel 2017 abbiamo purtroppo trovato avevamo solo disponibili sei loculi in tutta la città quanti defunti abbiamo inumati? 55 mila giusto? ecco ricordo 55 mila defunti da gestire comunque la partita dei cimiteri che ovviamente viene sempre lasciata è stato detto anche questo quando c'è tutto il tema del riperimento delle persone perché l'altro grosso lavoro che è stato fatto da questo team è stato quello di andare a ricercare la storia del defunto per cercare di capire quale destinazione la famiglia volesse dare diciamo i resti della persona e questo è stato un lavoro enorme che è stato portato avanti con grandissima sensibilità beh direi che i risultati dal 2019 ci hanno portato ad avere oggi 298 nuovi ossari e 231 nuovi loculi quindi anche su questo la progettualità si traduce in un risultato e in un ritorno per la città perché alla fine avremo dove poter collocare i nostri cari grazie e complimenti ancora oltre agli auguri grazie grazie consigliere Ghiezi altri interventi in aula dichiaro chiusa la discussione prego assessora può replicare una precisazione perché l'hai detto una cosa giusta l'ultimo campo che abbiamo esumato il campo C in realtà i campi dopo l'esumazione andrebbero fatti riposare per un anno siccome sapevamo perché dal covid in un primo momento si è riusciti a far fronte con la cremazione poi non c'era più posto perché era tutto strapieno e quindi sono stati seppelliti in terra nel momento in cui abbiamo svuotato il campo C abbiamo chiesto all'azienda di farci tutta una lavorazione con gli enzimi di purificazione del terreno perché comunque sapevamo che non saremmo riusciti a far riposare il campo per un anno quindi il campo è stato lasciato lì sono stati buttati ogni fila che veniva aperta poi venivano buttati gli enzimi è stata rigirata tutta la terra è stata bagnata perché gli enzimi si devono sciogliere devono entrare dentro e lavorare nella terra e dopodiché abbiamo potuto usarlo questo mi sembrava corretto dirvelo perché se no sarebbe stata un po' una mancanza di rispetto verso chi è stato sepolto dopo però questa questa cortezza l'abbiamo avuta grazie assessore dichiarata chiusa la discussione passiamo a questo punto alla dichiarazione di voto città in comune consigliera Pagani sì grazie presidente allora non sono intervenuta all'interno del dibattito un po' un po' l'ora insomma anche però appunto volevo dire in questi due minuti alcune cose seppur velocemente la prima sicuramente diciamo che la commissione è stata molto interessante e soprattutto ci ha fornito tante informazioni di cui non eravamo a conoscenza è vero è stata una commissione lunga però nella lunghezza c'è stata anche molto dettaglio molta anche disponibilità da parte dei dirigenti presenti e ci ha permesso di capire molte cose credo che questo sia stato un aspetto apprezzato da tutti i consiglieri che sono rimasti tutti insomma fino anche ad un orario abbastanza come dire abbastanza tardo mi ha molto colpito e ho molto anche qua apprezzato tutto il ragionamento lo spazio che è stato fatto sul giardino delle rimembranze e quindi sulla possibilità della dispersione delle ceneri ovviamente ciascuno di noi ha discusso come dire anche dal suo punto di vista perché sono questioni davvero molto molto anche personali di cui però il comune si deve far carico in un'ottica come dire di complessità della cittadinanza che ha davanti però penso che quello sia un elemento un valore aggiuntivo importante così come la sepoltura di fedi diverse vabbè gli animali di affezione si è anche molto ragionato sul fatto che di fatto un cemitero degli animali non ha senso per una serie di motivi che sono stati ben spiegati dall'assessore quindi non li ripeterò quindi credo che il lavoro fatto sia buon lavoro esprimo anch'io delle perplessità che sono legati a questa riduzione delle concessioni in maniera molto significativa ne comprendo la motivazione capisco però anche che è un tema veramente complesso con una sensibilità diversa e anche con dei bisogni molto diversi e quindi non sono non sono convinta che questa riduzione così drastica e anche questo incentivo ad un rinnovo non vantaggioso sia ottimale esprimiamo quindi un voto di astensione poi rivedendo comunque un apprezzamento per il lavoro fatto fino adesso grazie rivedendo rivedendo il voto di astensione Europa Verde Sinistra Italiana consigliere Foggetti anche per noi astensione Lega Salvini Premier consigliere Pini favorevole Forza Italia consigliere Cupido favorevole Partito Democratico consigliere Maderloni astensione gruppo misto no chiedo scusa Rincelli assente abbiamo sesto consigliere Molteni ecco qua grazie presidente e si verifica quello che è stato detto prima mi lasciavo dispiaciuto comunque il nostro voto è favorevole Fratelli d'Italia consigliere Turolla grazie presidente voto favorevole Stefano Sindaco consigliere Pugliaghi grazie presidente favorevole attendiamo per la votazione della proposta di delibera possiamo procedere consigliere Milazzo ora c'è un problema di collegamento signora Milazzo ci sente? il suo voto? mi astengo sì mi astengo attenzione attenzione allora abbiamo 15 voti però qui non mi segnala segnala zero favorevoli forse sei già zerato grazie 15 voti favorevoli 8 astenuti con la Milazzo la delibera viene approvata ed è esecutiva passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno numero 8 approvazione dei verbali delle sedute consigliari dei giorni 27 4 2023 delle ore 20 ci sono osservazioni in merito Cagliani non c'è quindi non ha lasciato non ha lasciato deleghe Banderlioni non ha lasciato no si sta no ok a questo punto possiamo attendiamolo ok per procedere al voto possiamo procedere consigliere la Milazzo da remoto favorevole con 23 voti favorevoli il verbale viene approvato ed è esecutivo tenuto conto di quanto giustamente espresso all'inizio dell'HP Gruppo il consiglio termina qui prima di dichiararlo chiuso consentitemi due comunicazioni la prima come sempre concorato nella Capigruppo ci sarà la sospensione festiva dall'1 al 31 di agosto e poi do atto formalmente che è stata anche costituita la commissione di controllo con l'elezione del presidente consigliere Capogruppo Pagani e del vice presidente consigliere Capogruppo Torolla detto questo consentitemi di ringraziare l'intero consiglio comunale a nome di tutto l'ufficio di presidenza anche tutti i dipendenti pubblici che hanno sempre garantito il servizio soprattutto oggi che hanno fatto un lavoro straordinario e le forze dell'ordine grazie a tutti davvero e buone vacanze dichiaro concluso il consiglio 1.22 di ruo di ruo l'usir di ruo